Utilizzare il vostro iPhone con i Dermlight della serie 2 oppure serie 3 è estremamente semplice L'adattatore per iPhone e Dermlight è un guscio in materiale plastico che si applica sul retro del nostro iPhone 4 oppure 4S Si applica in maniera molto semplice, basta posizionare l'iPhone in questo modo e con un clic avrete la certezza che l'iPhone sarà in sede A questo punto siete pronti per avvitare il vostro Dermlight 2 o 3 o anche il Dermlight della serie 1, l'ultimo uscito Per poterlo utilizzare con la fotocamera del vostro iPhone 4 4S La rimozione dell'adattatore, qualora vogliate inserire la cover originale dell'iPhone Avviene grazie allo scorrimento dell'iPhone stesso che viene liberato in maniera molto semplice Quindi ricapitolando, inserimento, iPhone inclinato lateralmente Un clic ci testimonia che la copertura è in sede Al contrario per rimuoverlo viene fatto scorrere nella zona inferiore Grazie Grazie